Dammi i borse e gioielli! Adesso! Oh mio Dio! La prego non mi uccida! Fermo lì! Malfacente! Ah boh? Hai attirato l'attenzione di Mr. Calamita! Io! Fatrai questo! Con piacere! I criminali li trovo repellenti! Ciao ciao! Oh cazzo! Oh no! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Sono stato sparato! Oh Cristo! Cosa facciamo? No aiuti! Porca puttana! Porca puttana! Vi prego! Tirate fuori la pallottola! Ecco provi con questo! Oh mio Dio! L'ha ammazzato! Assassino! Porca troia! Mi dispiace! Oh cazzo! Non posso andare in prigione! Pronto! 9-1-1! Serve un'ambulanza! C'è stato un incidente! Oh mio Dio! Mi dispiace! Cazzo! Cristo! Ma smetta di ucciderlo! Oh grazie al cielo! Oh! Cazzo! Grazie a tutti.